...dagli sguardi, anche il KFC è iniziato da poco l'attività giovanile e da un anno e siamo partiti, siamo partiti, palla e mezzo, palla e mezzo, numero 14 e numero 2, numero 14 che ha crescido verso il numero 2, ma il numero 2 tiene il pallone, Chris che avanza, verso la porta del KFC, sembra il numero 2, numero 3 che prova il tiro, prova il tiro, poi riesce fuori verso il numero 2, posta la serpista, sempre la serpista, prova il tiro, stoppone del numero 6, che becchio forte, numero 6, una sara cinesca, un'occhio, e comunque i ragazzi si riparte da un angolo, si riparte da un angolo, sentiamo lì, si scatta, sentiamo lì, davide, 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 diciamo che i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, vediamo che il numero 2, ora il tiro, ora il tiro, ora l'occasione sicuramente per KFC, cari prof, attenzione, errore, errore, ma può succedere, l'ammusismo, ma non lo spazio, duello epico fra numero 3, numero 8, prende la palla, numero 3, agressivissimo, ora 12, vediamo se 12 non ce l'ha, contro il numero 3, ancora un batti e ribatti fra attacco difesa, le squadre si allungano, le squadre si allungano, le squadre si allungano, le squadre si allungano, l'attrazione, mi salto il 6, provo il tiro, traversa, traversa, ancora Trieste, ancora Trieste, provo il tiro, il tiro, la scuola, la scuola, l'attrazione, la scuola, l'attrazione, il tiro, la scuola, Michele, 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 il tiro, il tiro, la scuola, il tiro, il tiro, il tiro, l'attrazione, che è andato all'attacco, senza, accaduto all'espiro, quanti errori, gli stupi sono stati in KFC, vediamo ora la gran Bretagna del KFC cosa dirà ai suoi ragazzi, Siamo pronti, siamo pronti. Fattigiaturissima, assolutamente estrema, ancora ragazzi del senso del settimo di bastino nazionale d'attacco. Ancora il numero 10, come avete fatto? Vado ancora da Trieste. Trieste, manobra, manobra, di valo, campo, oggi, e ora cambio campo. Siamo al camminato, perché è un siberiano?